Sta per tornare il paese di Babbo Natale a Chianciano Terme, una quarta edizione tutta rinnovata che permetterà ai visitatori di vivere la magica atmosfera natalizia della Lapponia. L'edizione 2017 è stata presentata nel corso di una partecipata conferenza stampa martedì mattina. Si svolgerà dal 4 novembre al 26 dicembre e coinvolgerà l'intera città termale con tante iniziative non solo al Parco Acqua Santa, solita location dello scorso anno per il paese del Natale, ma anche in Piazza Italia e nel Centro Storico. Da qualche anno è un evento importante per questa cittadina, ma soprattutto perché ha cambiato un po' di vivere il turismo in questa città, allungando anche quella che è la stagione e puntando un po' su quello che è il turismo per le famiglie. Quest'anno non credo che sarà l'unico evento importante che ci sarà e che c'è stato comunque in questo paese, perché ricordo solamente quello di Scacchi per dire che, insomma, quest'anno ci sono stati diversi appuntamenti importanti e il prossimo anno già ne abbiamo in calendario altrettanti. Quindi credo una cittadina che si anima, che lavora per rilanciarsi su tanti punti di vista. Il turismo per famiglie è qualcosa di importante e che condividiamo con l'azienda Terme, che poi è l'azienda più importante del nostro paese e che è quella che ha fatto le fortune di questo paese nel tempo. Quest'anno è un paese di Babbo Natale che si rinnova, si rilancia, cambia vestito, cambia modo, cambia metodo, ma come doveva essere, anche perché poi nel tempo, come ho sempre detto, il paese di Babbo Natale è replicabile, Babbo Natale è di tutti. Quindi, chiaramente, se non portiamo novità e innovazioni, credo che poi alla fine qualcuno scelga qualche altra parte. Quindi credo che quest'anno valga la pena vivere quest'ulteriore bellissima esperienza per i bambini, ma anche per i genitori. Le novità di quest'anno saranno in un paese Babbo Natale tutto nuovo, rinnovato e non solo. Avremo delle tenso strutture per ampliare i spazi, perché comunque ha bisogno, secondo me, è un po' troppo chiuso, ha bisogno di avere più metri quadri, diciamo, in tutta la superficie. Avremo il mondo della fiaba, la grande novità, con Special Guest Masce e Orso. Inoltre faremo questo musical dedicato alle terme con Teamilla, dove sarà la novità di quest'anno. Ma anche in centro storico ci sarà un personaggio che incuriosirà i visitatori. Sì, diciamo, sarà il Guastafeste, il Grince, l'antinatale. È stata un po' un'idea così, un po' scherzosa, ma anche per fare qualcosa e portare, diciamo, il turista che arriva a Chianciano a far riconoscere il centro storico e farlo visitare, diciamo, questa parte che normalmente poi se no non riuscivamo ad arrivarci. Inoltre, Piazza Italia riaccenderemo riflettori sul Grand Hotel e faremo una parca lì da bambini con un altro mercatino sempre in Piazza Italia. Non solo, avremo un'area spettacolo in Piazza Italia, dove faremo anche la cena di Babbo Natale. Come stanno andando le prenotazioni in questo periodo? Perché il trend si conferma come un trend positivo, ma in netto miglioramento rispetto allo scorso anno. Assolutamente sì. Le prenotazioni sono già partite rispetto allo scorso anno con un bel po' di anticipo. Siamo circa due o tre settimane in anticipo addirittura, ma la cosa ancora più bella, diciamo, è che sono richieste e prenotazioni effettive e soprattutto non riguardano soltanto il fine settimana, quello classico del ponte dell'8 dicembre, dell'Immacolata, che tutti richiedono, ma addirittura si hanno anche già a partire dalla metà di novembre. Quindi ci sembra di poter dire che quest'anno sicuramente ci sarà un aumento nelle richieste, ma che sono già diventate concrete, sono comunque già conferme. Un altro dato importante è che non chiedono più solo un giorno, ma addirittura chiedono il prolungamento, fino a due notti, tre notti, per cercare di scoprire un pochino di più il territorio, anche se comunque tutto è finalizzato all'evento natale. Però insomma ci sembra che quest'anno le cose stiano un pochino cambiando. Grazie. Grazie. Grazie.